Ciao ragazzi, è tardissimo, qualcuno mi dirà che parlo piano, però pur di fare un video per voi mi è stata chiesta una canalizzazione, un messaggio dagli spiriti intelligenti mi hanno scritto, io direi dall'anima mundi, dal sé superiore, comunque un messaggio per voi. Non c'è la tematica e andiamo a vedere un pochino cosa viene fuori, mi scuso per il tono, però è l'unico modo per poterlo fare a quest'ora di notte. Vediamo cosa ci vogliono dire le carte, il mazzetto era già mescolato, ne prendiamo un pochino, seguiamo l'istinto e lasciamo il mazzo qui. Ok, vediamo qual è il messaggio delle carte. In questo momento ti sembra che tutto sia andato perduto, un grande dolore deve averti attraversato, è stata una sorta di chiusura totale, un piccolo lutto che però non ha tanto ferito la tua anima, quanto fiaccato il tuo corpo. Probabilmente devi aver vissuto, visto e sperito qualcosa che ti ha profondamente turbata e probabilmente qualcuno deve aver completamente tradito le tue aspettative. Forse ti sei dovuta scontrare con una realtà che mai avresti creduto tale, in questo momento sei sulle difensive, non attacchi, però non sei disposto a giungere a compromesso e soprattutto non ti interessa minimamente il dialogo. La scelta è quella di rimanere al proprio posto e di scacciare chiunque voglia costringerti ad affrontare una situazione che già per quel che ha mostrato si è rivelata terribile. E' accaduto qualcosa in un momento in cui a tutto avresti pensato, tranne che a questa realtà. Forse è stata un'amicizia o un amore sincero, una persona con la quale fino al giorno prima avevi condiviso tutto. Lontano anni luce dalla tua mente, mai avresti creduto che questa persona avrebbe potuto pugnalarti alle spalle. Ma in realtà ancora oggi, che poi è passato così poco tempo, non riesce effettivamente a capire quale vantaggio questa persona abbia tratto dal comportarsi nel modo in cui si è comportata. Eppure c'era tanto affiatamento, progetti in comune, molto simili, sognatori tutte e due, grandi speranze. Addirittura qualcosa da fare assieme a breve, un viaggio, una casa, condividere la quotidianità alla luce del giorno, senza più nascondersi. E promesse tra l'altro, nutrite soprattutto dall'altra persona. In fondo tu non avevi mai voluto accelerare i tempi, né costringere questa persona a prendere una posizione in merito alla situazione che riguardava entrambi. È stata lei, questa persona, ad accelerare il tutto e a convincerti che fosse necessario fare in fretta. E perché il tempo che avevate e il tempo avuto fino ad ora è stato troppo poco. Era necessario poter stare quanto prima, il più vicino possibile. E poi all'improvviso tutto si è capovolto. Questo guerriero pronto alla conquista, che sarebbe abbattuta e ritirata. Nascondendosi dietro delle sciocche scuse, coprendosi il volto, cioè abbassando lo sguardo e senza guardarvi negli occhi, abbattuto la ritirata. Il problema è che il suo capovolgimento di fronte è stato talmente repentino e insensato che prima non avete avuto modo di prepararvi ad accogliere il colpo. E dopo che il colpo è arrivato, non avete neppure la consolazione di un guento, un balsamo, cioè del senso del suo agire, che possa allenire le vostre ferite. Vi siete semplicemente sentite attraversata da una scarica elettrica che vi ha fulminato. Si è spalancato l'inferno in un attimo. Vi siete sentite mancare. Quello che è morto in un primo momento è sembrata morte dentro di voi. Tutte le certezze si sono dissolte. Tutto quello che prima era luce all'improvviso è divenuto ombra. Tutto quello che era stabilità, terreno sotto i piedi, è divenuto un pantano. E' divenuto un pantano come le sabbie mobili hanno iniziato a assorbirvi. Vi siete sentite completamente inondate. Accolte da queste sabbie, come dicevamo, da questo mare, come quel famoso quadro, che ora non siamo qui a citare, ma sicuramente vi verrà in mente. E me lo suggerirete voi nei commenti di Ophelia, se non sbaglio. Vi siete sentite trasportare da queste onde che vi hanno completamente sovrastata. E il problema è che non avete avuto la forza di ribellarvi. Però, questo vostro non reagire è stata l'unica benedizione in tutto questo accadimento. Perché non reagendo siete state resilienti. Avete accusato il colpo che vi ha siffiaccata, ma non vi ha spezzata. Ce la farete a riprendervi, ma in questo momento siete completamente svuotate. E' la fiducia nel prossimo che non avete più. Perché se così si è potuto comportare un individuo, che fino a qualche momento prima vi giurava amore, e si è ribellato a voi come la peggiore delle creature, trattandovi in un modo che mai avreste immaginato di ricevere e di vivere, ma soprattutto da questa persona. Figuriamoci di altri. Avete chiuso il vostro cuore. Perché ancora vi sentite completamente bloccate. Bloccati. Tutta la vostra creatività, tutta la vostra costruttività, tutto il vostro saper fare, e le mani con le quali eravate in grado di donare carezze, e di costruire piccoli miracoli, in questo momento sembrano un lontano sogno, un ricordo di un qualcosa che forse mai è stato effettivamente. Non ce la fate a guardare in faccia al futuro, e non ce la fate in questo momento a credere che si possa abbrindare nuovamente ad un nuovo amore. È una sensazione tragica, lirica, quella che vi sta attraversando. E il problema è che non sapete cosa fare per uscire da questo stato d'animo, perché non avete ancora compreso, e non è colpa vostra. Come sia stato possibile finire in questo pozzo? Un pozzo in cui non c'è neanche un secchiello per poter chiedere aiuto. Non c'è nulla da muovere, nulla da far battere contro le pareti per fare rumore. Ma il problema è che non avete neanche voglia di essere salvati. In questo momento avreste solo voglia di scomparire, non di morire, ma di scomparire. Ecco perché vi nascondereste dietro il primo velo, la prima scusa, la prima giustificazione. Che vi può venire in mente? Vorreste essere completamente ricoperte da qualcosa che possa nascondere quello che è accaduto. Anche una scusa, un'apparenza, fingere uno stato d'animo che non vi appartiene. Nel vostro cuore è quello che state vivendo la stagione dell'inverno con un tempo cristallizzato. Una stagione in cui il freddo fa sì che nessuno venga voglia di incontrare altri e di uscire di casa. Ecco, quello che vorreste in questo momento è avere una giustificazione per non dover vedere le persone, per poter stare dentro casa e per non essere cercata. Voi non volete parlare, non volete che le amicizie più chiare intuiscano quello che state provando e vi chiedano di aprirsi con loro. In questo momento voi non volete aprirvi con nessuno. L'unica cosa che vorreste fare effettivamente è nascondervi. Nascondervi. Nascondervi e attendere. Attendere che passi tutto, attendere che le persone si dimentichino di voi, in modo che possano dimenticarsi anche di tutto quello che stavate vivendo fino a un momento prima. Perché in fondo la vostra quotidianità non era nascosta a tutti. Qualcuno sapeva di voi, qualcuno sapeva del vostro amore. E ora cercare di dare spiegazioni ad altri che rimarebbero come voi sconvolti dal comportamento che quella persona ha avuto. Equivarebbe per voi a percepire nuove pugnalate alle spalle. E non avete la voglia, non avete la forza, ma soprattutto non sapete cosa dire. Siete lì a guardare quelle acque dalle quali piano piano vi siete tirate fuori. Eppure siete lì con le braccia, con certe, sulle vostre ginocchia, ad offrire queste mani vuote perché non avete nulla da offrire. Non avete nulla perché avete capito che tutto quello che sembrava essere stato costruito nell'ultimo periodo in realtà si è rivelato solo una bolla di sapone, un castello di sabbia. E non avete nulla da offrire agli altri perché non avete capito che cosa avete vissuto in questi anni e state iniziando a pensare che forse avete frainteso tutto. Eppure, quelle promesse erano vere, quei baci anche. E tutta quella presenza, e quei contatti, la cosa che più vi fa male è che il vostro corpo non ha perso la memoria di quello che ha sperimentato, è il vostro stato d'animo che è sotto shock. Vorreste rincorrere questa persona? Vorreste costringerla a un chiarimento? Proprio perché vi ha lasciato in questa notte in cui la nuna non è assolutamente intuizione ma confusione profonda e siete lì che avete perso la pace, la serenità e la tranquillità. Vorreste raggiungere questa persona per costringerla a guardarvi quantomeno negli occhi, ad affrontarvi? Vorreste semplicemente chiedere a questa persona se tutti quei ricordi della passione, della condivisione, delle promesse, delle parole d'amore sono solamente frutto della vostra immaginazione o se c'era anche lei, quella persona con voi, quando queste cose le avete vissute. vorreste che questa persona vi guardasse in faccia e avesse il coraggio di dire quello che pensa realmente e avesse il coraggio di darvela anche di nuovo la pugnalata ma non alle spalle ma davanti permettendovi anche di potervi difendere e allontanare perché quello che questa persona ha fatto colpendovi alle spalle è stato non darvi la possibilità di difendervi non tanto di reagire attaccando lei ma di andarvene di allontanarvi per tempo questa persona non vi ha chiesto di allontanarvi vi ha semplicemente scacciato come una furia come un demone non l'avete più riconosciuta non erano gli occhi di sempre non erano i gesti di sempre e tuttora per quel poco che riuscite a sapere di lei nonostante la vostra chiusura e per quel poco che riuscite a vedere dai canali dove magari qualche foto la reperite ecco questa persona non ha più il volto di un tempo iniziate anche ad aver paura che sia successo qualcosa magari entrate in un brutto giro magari qualcuno ha fatto un legamento magari qualcuno ha condizionato questa persona in questo momento siete fortemente tormentate dal fatto che la spiegazione non c'è e per di più questa persona è riconoscibile le parole restano chiuse nel vostro cuore così come lo sconcierto vi accompagna nei vostri giorni vagate come un'anima in pena che cerca di fuggire il contatto umano perché non sa più in cosa credere non avete la forza di proferir parola tanto è lo stupore che vi ha lasciato basite un vero e proprio shock emotivo dal quale in questo momento non riuscite a riprendervi non siete neanche a metà del percorso siete nell'attimo della rottura siete rimaste bloccate in quel momento e state probabilmente iniziando a percepire anche strane dinamiche temporali perché è come se la vostra vita in quell'istante si fosse fermata come quando all'improvviso dell'orologio le lancette si bloccano perché le pile sono esauste bisognerebbe cambiare pila e anche per voi dovreste trovare una nuova motivazione perché è come se quelle pile in questo momento non potessero essere più ricaricate l'unico modo per riprendervi è cambiare alimentazione energetica intendo ma lo dovete fare voi non c'è purtroppo un tecnico dell'anima che possa venire ad aiutarvi oramai i colpi ricevuti sono stati ricevuti e dovete sottrarvi dagli ulteriori colpi che state dando voi stessi alla vostra persona trattenendovi in questa zona di profondo malessere e dolore piano piano dovete convincervi che la persona che vi ha detto di amarvi è stata anche quella che più di tutte vi ha fatto del male in questo momento è necessario avere il coraggio pur rimanendo ferma lì a piangersi addosso al bordo di quelle acque che vi hanno prima sovrastata sconfitta ma poi vi hanno riportato a riva conservandovi la vita avere il coraggio di guardare altrove non dovete credere che quella storia bella ma tanto terribile rappresenti l'unica possibilità di gioia per voi forse in realtà era il più grande pericolo e per fortuna ha avuto termine prima che le cose peggiorassero perché al vostro orizzonte c'è qualcosa che vi raggiungerà o forse vi ha già raggiunte ma non la riuscite a vedere solo perché per vederla dovreste avere il coraggio di alzare lo sguardo o forse